Benvenuti signori in questa reaction ai migliori meme di Among Us che ci sono sul web Siccome già so che crepiremo dalle risate e manco un impostore ci avesse killato da dietro Lasciate like entro 5 secondi se siete dei veri crewmate Quindi 5, 4, 3, 2, 1 Spero che potete lasciare like se siete dei veri crewmate Siete solo dei sporchi impostori Bene ragazzi iniziamo subitissimo E io non li ho visti è una vera reaction assieme a voi questa C'è il rosso che si guarda dietro al blu Sta collegando i cavi Il blu si avvicina Vediamo è lui l'impostore No è morto È morto È morto No Tutti gli altri vedono il rosso vicino al corpo del cadavere E viene buttato via No lol Ok Tutti quanti nella lobby prima di iniziare la partita Tutti che vanno in direzze indifferenti Il viola sta a farlo del design Mamma mia quanto è odioso quello ragazzi Quanto tempo ci metto Cioè in realtà Ok questo che sta a buttare immondizia Nooo Nooo Ok Quello che Ma Non 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 Lo scanner Quello gioca a Minecraft Ah Quello che la benzina Questo che tu sei Ah il download Nooo XSUSE AHAHAHA 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 video so many times but it's still funny ok tre impostori ragazzi tre impostori ti piace il mio cappello via no vabbè ragazzi soltanto le chiamate stupide delle persone ti mancavate ok Pinky si è nata stretta io fa tutte le task ok no era lei l'assassino ok ok quando devi premere e non c'è nessuno dall'altra parte quanto è odioso andate a fare le cacchio di emergenza perchè nessuno va che te vorresti avere le mani lunghissime per le date entrambe le parti 9 8 ti sale l'ansia che tipo inizia a urlare avvicinatevi fatelo ok qualcuno va ok ci è riuscito niente si avvicinano è uno dei due killer addirittura no ok tipo per far finta di essere ecco lo sapevo il blu in realtà è un impostore eh vedendo l'ha ucciso la catarranizzata ecco esatto appunto lo volevo dire io allora quando uno è impostore è perchè c'è un cane che balla vicino eh in 3d ma e perchè ragazzi cosa stanno vedendo cosa stanno guardando i miei occhi nel senso il cagnolino però è impostore ok a caso ragazzi a caso ma che ha perso tempo a fare questa cosa di di gente che balla i bra moment parte 1 vabbè i bra da break you made allora ha la cavolo di carta che non funziona mai ok il giallo con il cagnolino in realtà è il killer però vada a bindolare tutti quanti perchè c'ha il cane che balla ok signori l'azzurro vedi il rosso ah ok c'è tipo oddio sicuro è se viene buttato fuori lui per qualche ragione riporti il rosso e dice che ho il verde ah no ma no c'ha il cooldown non ho pochi latti vai tranquillo il il viola vede oh oh mi sa che qui qualcuno sta per crepare il viola eccolo lì il verde implora pietà il viola si impietosisce sono per aprirsi le porte eh ok lascia il coltore insanguinato gli va vicino ora gli stacca la testa fa fa e gli stacca la testa si alleano gli fa un regalo e una bomba e muore no che sa fa scarta il regalo che cos'è delle cuffie sono delle cuffie nuove prende le cuffie avvia un audio che sa fa aumenta aumenta il volume così alto finchè non gli esplode la testa ecco appunto gliel'avevo detto io riportare il corpo sta collegando i cavi facendo finta di collegare i cavi che succede nooo nooo perchè 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 che facevano tutto il buio ok vado all'altra parte gli va dietro il rosso sta per killarlo ma vede che c'è che vede un anime no perchè mi ha fatto fuori il bianco che sta senso riporto il corpo riporto il corpo no che vai non lo sei qui nella ventola non ha senso ah sono entrambi i killer ok no perchè tutti e due uno avrebbe dovuto dire che era l'altro among others goals a meeting ok il il rosso chiama un meeting e dice che ha visto il blu non fare niente però il blu dice sus che sembra sospetto e e tutti gli altri iniziano a dire si è vero che sembra sospetto quindi basta quello che dice seguitiamo il sospetto sus e tutti ti credono ok lui dice ma io ho le prove concrete cioè l'ho visto che non ha fatto niente invece quello dice sus e niente tutti quanti gli credono tutti gli altri votano non era pure il fantasma voto il rosso e il rosso non era l'impostore e quello signori mei era l'ultimo meme fatemi sapere ragazzi qual è stato il meme che vi è piaciuto di più tra tutti quanti questi c'è davvero ci sono alcuni che mi hanno fatto davvero crepare risate che non me le aspettavo voi giocate da mon gas da pc da telefono o comunque dove ci giocate magari da tablet non lo so scrivetelo qui sotto nei commenti io spesso ci gioco da pc o comunque anche da telefono quando tipo sono nel letto e messaggio e inizio a scoprire tutti quanti gli impostori ovviamente ci do un bel like e di iscrivervi al canale se non siete iscritti e ci vediamo quindi magari in un prossimo video ciao ciao